Nei mesi scorsi hanno organizzato sit-in sul piazzale di Palazzo di Città, poi sono saliti sul tetto dell'ex cinema Bellini. Alla fine si sono accomodati sulle sedie per fare da platea all'ultimo consiglio comunale e conoscere il loro destino. Sono le guardie giurate della Sicuritalia, l'azienda alla quale era affidata a Trani la vigilanza armata negli stabilimenti AMIU e nella discarica comunale. Come noto, pur non essendo stati licenziati dalla loro società, i vigilantes sono rimasti praticamente inoccupati, dallo scorso mese di ottobre, da quando cioè una nuova società, la Vegapol, è subentrata nella gestione del servizio. Le guardie attualmente purtroppo non hanno alcuna prospettiva, in quanto seppur con un'esclusione a nostro dire piratesca, esclusione dal cambio d'appalto che ha previsto altri servizi per la stessa discarica dell'AMIU, l'amministrazione si era più volte, in più tavoli, in più occasioni prodicata a dire che avrebbe risolto la situazione perlomeno occupazionale, con una soluzione che richiamasse un attimino la vecchia situazione lavorativa o con altre soluzioni. Ad oggi purtroppo con estremo ramarico dobbiamo dire che non vi è alcuna soluzione all'orizzonte e noi inseguiamo l'amministrazione giorno per giorno affinché trovi una reale soluzione alle problematiche di questi lavoratori, che seppur è vero rimangono ancora assunti con Sicuritalia, e di fatti sono stati estromessi dal mondo del lavoro, in quanto Sicuritalia, avendo l'impangio, gli ha proposto trasferimenti inopportuni, improponibili, in quanto alcuni sono stati trasferiti con contratti part-time a Roma, dovendosi poi sorbarcare spese di affitto e di vitto, per cui è come dire non ti licenzio ma ti metto alla fame. Della questione è stato chiamato a discutere ieri pomeriggio su proposta di 13 consiglieri l'assise tranese che, in buona sostanza, ha deciso di non decidere. I botte risposte in aula tra i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno prodotto più dubbi che soluzioni. Alla fine una decisione comunque è stata presa con 22 voti favorevoli. Verrà verificato il pieno rispetto da parte dell'azienda giudicataria di tutte le clausole presenti nel bando, compresa quella clausola sociale che avrebbe dovuto salvaguardare i livelli occupazionali. Una soluzione solo apparente che ai vigilantes della Sicuritalia è suonata un po' come una presa in giro, ben lontana da quelle che da mesi sono le loro richieste all'amministrazione comunale. Noi chiediamo una risoluzione, il lavoro, che è molto fondamentale. Cioè il fatto di essere stati scaricati su un'altra onda, che è naturalmente un'onda di alta maria, non va assolutamente bene, perché è uno scarico protempore e quindi noi stiamo lottando affinché questo aiuto ci venga dato benevolmente, perché come ci hanno tolto il relativo lavoro così ce lo devono restituire. Altro punto all'ordine del giorno, quello sull'emergenza ambientale, vale a dire le questioni della discarica e della cava di Contrada Monachelle. Nel merito sono state avanzate due proposte, innanzitutto un'analisi ambientale specifica del territorio, chiedendo all'ASL un quadro dettagliato delle neoplasie. Poi il rinnovo dell'ordinanza che impone ai proprietari delle cave di smesse, la bonifica e la redazione di un piano particolareggiato. I due provvedimenti sono stati approvati.